E' vero, io e Bettini negli ultimi mesi abbiamo avuto dei contrasti. Che contrasti? Era un ingenuo, non aveva capito che qui le cose funzionano in un certo modo. Nessuno gli voleva impedire di realizzare i suoi progetti. Sì, ma se vuoi costruire qui ci deve guadagnare anche Garritano. Sì, e a Pizzocciunna ci siete arrivati insieme? Ma no, lui arrivò per conto suo, noi venivamo da un cantiere. E come mai la sua macchina è rimasta posteggiata lì vicino ai tuoi uffici? Ancora questa macchina, la manna, che minchia ne so, che ti devo dire? Invece di rompere le scatole a me, tu lo sai di chi ci abita vicino a Pizzocciunna? Don Cesare Boscolo. Don Cesare? Esatto. Secondo te fa solo il pastore? Ti sei mai chiesto perché lo chiamano Don? Vorresti dire che... Esatto. Indaga, fai domande, vai in giro, chiedi, vedrai che personcina. Adesso scusami ma sono con amici. E da questo momento fammi il santo favore di lasciarmi in pace. E da questo momento fammi il santo favore di lasciarmi in pace. No! Ci disse che il lato intero non lo voglio fare. Ancora è caudo, caudo nella tomba, il povero mare tozzoleo. Ma che minchia te mi viene a contare? Che cavolo è cavolo? Quel grandissimo cornuto è morto da tre anni. Che so? Banane si chiamano. Stanno in Africa. Mi riporto aerei un amico mio che naviga. Una me la manciavo. Una cosa di paradiso. E ora con queste due ci facciamo un gioco. Ancora? Ancora? Questa è carnazza. Com'è? Carnazza. Non capisco padre carnazza. Un muro. Un cucino. Cucino? Ma dove lo trovo un cucino adesso qui? Un muro. Un muro. Buongiorno, Antò. Buongiorno. Guardi questo, mi ha posteggiato dentro al negozio. Questo bese è diventato uno schifo. Questo perché i vigili sono tutti imboscati, questi cornuti. Vergogna. Buona giornata, Antò. Di chi è questa camurria? Vai, cittadini. Tutte ve le dovete portare, così facciamo pulizia. Evviva, Natòle. Evviva. Ehi, Michele, vestito così non ti avevo riconosciuto. Che lo so. Peppino, ma tu ce l'hai permesso per occupazione di suolo pubblico? Suolo pubblico? Qua dentro al mio negozio siamo, Michele. Permesso. Ci vuole il permesso. Ma quale permesso? Ma tu il permesso per vendere frutta e verdura. Chi te l'ha dato a te? Io padre. Grazie. Ho l'aria di uno che è seguito da una banda. Quale banda? Appunto, quale banda? Evviva gli sposi! Come ti chiami? Peluso. Angelo. E quante volte sei stato in carcere? Una volta. E mi abbastò. La carcere è diventata così. Ma magari c'era già prima e non lo sapevo. Forse era meglio. Forse era meglio.